Hello guys, Koto here! Oggi vi porterò la prima parte delle pull fatte su Zhongli. Tutto questo è successo in streaming Discord, vi do scusa per la qualità di qualche pezzo. Vi ricordo inoltre che mi trovate quasi ogni sera in streaming su quello viola. Il link è in descrizione, lasciatemi un follow se vi va. Per concludere, in questa prima parte troverete le pullate di Gregolo e Freddis, che ringrazio. Scrivete pure nei commenti cosa voi avete trovato in questo banner e buona visione! Io vado di single, raga, a meno che il mio senpai lo indica diversamente. Allora, un attimino abbasso, ok. E intanto iniziamo con un 3 stelle, nuovo sondaggio facciamo. Tra quanti pull troverà Zhongli? Ora lo trovavo adesso, sapete ragazzi che roba. 10, 20, 30, 40 o 50. Ok. Sai che stai laggando tantissimo? Sto laggando? Ok, sì, un pochino sì. Ma si vede male? Eh sì, fai conto che non si è visto il... Cioè non si è proprio vista l'animazione. Non si è proprio vista l'animazione, io te lo dico. Eh, un po'. Guardo anche da solo. Ok. Non posso votare mai. Ragazzi, mai è riduttivo perché c'è il pit in questo gioco. Abbiamo il suo criceto e nostaggio, dice Trevius. Ora va bene comunque, ora va bene. Se puoi alzare un pochino il volume del gioco, l'unica cosa. Pullo le 5 del generico che ho gratis, raga, e poi vado avanti sul banner. Ok. Ci sta, ci sta. 5 stelle qui, tac. Ma di singole... Ricordiamo che oltre a Zhongli cerchiamo U. U, 4 stelle. Attenzione. Eh beh, questo ce n'ho 6. Deception. Quanti ne hai? N'è 18, va bene. Cerchiamo Chongyung anche. E... Se possibile una spada 5 stelle. Ok. Quindi non solo tu vuoi... Ma spada o lancia, scusa? Spada. Ok, spada. Lancia o una 5 stelle ce l'ho già, poi vediamo. Ok. Ok, torniamo a noi. Aspettiamo. Raga, lui fa le singole fin quando se la crede, poi... Prenderà il pazzo a qualcuno, quindi non è che saranno 180 singole. Tranquilli, ragazzi. Per i pull bisogna andare come si sente la fortuna, ragazzi. Non potete forzare i pull. Attenzione, fa tipo come dal Fabro Sumetin. E funziona, raga. Attenzione, funziona. 4 stelle, sono la prima scignan della serata? C'è ogni un... Ottimo. Ottimo. Back to back, stessa tecnica. Io direi una cosa, però. Tommaso è in chat. Potrebbe dire in due paroline per Gregolo. Esatto. Infatti, Tommaso è troppo silenzioso, raga. Intanto Tia dice che se trovi Zong, mi devi dedicare alle pull. Per forza, per forza. Vabbè, quel Fabro... Fado un singolo fino al prossimo... 4 stelle. 4 stelle, poi... Ok. Facciamo qualche multi. Tommaso sta osservando la situazione. Penso che stia studiando e facendo i suoi calcoli. Mi dicono che se faccio... 4 stelle. Chongyun! Chongyun! Qualcuno dalla chat mi dice di fare un 10. E io... Mi fido. Raga, 10. Arancione? No. Nope. Ma è normale che io sia ancora senza voce per quando ho urlato all'uscita di Zong? È normalissimo. Ok. Ma nessuna borla oggi ancora? Eh no, senza borla... No borla, no party. Adoro comunque che il bot stia ancora spammando lo Stringless. Mi piace, mi piace. Buono lo Stringless. Fatti mi... 20 che non ho, però... 20 che non hai... Vabbè, va bene su Fisher Support. Madonna. Eccolo, no? No, attenzione. Attenzione. Ma nessuna borla ancora? No borla, no life, dice Tittoggi della chat. Teresco dice che il prossimo singolo è Zong. Eh, adesso dopo questa andiamo di singolo, raga. Oh, Shinyan! PG nuovo! La prima Shinyan! GG? Ragazzi, ma secondo me... Avete presente che è in molti gacha? Uh, un altro 4 stelle. Il Favonius Codex. Che è in rate up per le armi, ragazzi, eh? Attenzione, è un 4 stelle? Un altro c'è ogni, non vuoi farlo C6, per caso? Sì, sì, sì. 3. Il fatto è che non ho garantito Zong Lee, quindi potrebbe uscirmi qualsiasi altro. E ti uscirà Diluc. Ma va bene, tanto ce li ho tutti, un doppio vale l'altro. Se esce Mona diventa però C2, quindi sarebbe... Un altro polaretto, dicono. Ho il messaggio pronto con il massimo delle borle spammabili. Raga, quasi 50 pool e neanche una borla. È proprio bad luck questa. Raga, esce prima Zong Lee della borla, secondo me. Esatto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma, mamma mia. Mi sto sentendo male. Niente borle, raga. Niente borle, ragazzi, proprio niente. Tommaso dice spam singole, sì, ma anch'io, perché dovrei essere intorno ai 70, quindi... Ah, ok. Allora ci sta. Andiamo a spam di singole. Mi hanno detto che se non faccio il per 10 sono pussi, raga. Ma io non cadrei in certe provocazioni. Eh, no, io... E invece... Il per 10, vediamolo, col 5 stelle! Ok, abbiamo un Wizith, questo coso, poi... Allora, eh, poi un po' di suspense. Ok. Skyrider Sword. Chi è? Non si vede? Lui. Si è bloccato! Lui! È Zong Lee! È Zong Lee! È lui? GG. GG. Allora, raga... Borla into 5 stelle. Back to back? Mamma mia, ragazzi. Back to back? Back to back? Chiamano due Zong Lee dalla chat. No. Però un chionghiun. Però un chionghiun. È la borla! È la borla, ragazzi, la borla! Spammate la borla, la borla in chat! La borla in chat, la spammo anch'io, non mi frega niente che sono lost. La borla! È mi è uscita anche una faccina con... Ok, lascia un po' su questa schermata perché... Wow. 2-4 stelle. Zong Lee. Bravi, ragazzi, che spammate le borle. Vi amo. Sono veramente proud e veramente fiero di voi. Ok. Sì, beh... Giustamente. Come hai intenzione di pullare? Singole? Allora, ho anche 5 di questo qui. Volendo possiamo fare questo per rompere il ghiaccio. Sì, per scaldarci. In teoria dovrebbe... Vediamo un attimo. Oddio. Ce la fai? Pensano un po' di lag. Eh, sì. Quando hai un buon computer... Allora, vediamo un attimo. Sono 6. 12. Che è il culo dei free to play sia con te, dicono, intanto. Ah, 24. 30. Ok. E... No, neanche 33. Oddio, sto a 33 su questo. Sinceramente, un 5 stelle con 5 di sicuro non troviamo, però... Vediamo un attimo, dai. Che ne sai? Che si può... Chissà, ragazzi, chissà. Quanto fa schifo, allora. Mi sa che devo chiudere Google Chrome? Ma... Può essere. Aspetta, ragazzi. Chiudo Google Chrome. Quanto laggi in questo streaming? Allora, vediamo un attimo. Se lagga troppo, ragazzi... Uno slingshot è uscito comunque. Spoiler. Va bene, quindi iniziamo a fare direttamente con una multi, ma sì. Come preferisci? È una singola quella? Tipo 5. No, è perché... Ah, ok, sì, sì, ok. Mi ha aggiunto una... Mi ha aggiunta una, che ce n'avevo 9. Ok. Dragon Tales. Uh, ciongion. Ok. Nuovo? Nuovo? No, costellazione 1. No, lo so, sinceramente. Ok. Dovrei aver... Sì, già ce l'avevo, quindi costellazione 1. Vabbè, iniziamo abbastanza bene, dai. Ci sta, ci sta. Quindi potrebbe anche essere un doppio 4 stelle, volendo. Bene. Perfetto. Ci potrebbe anche stare. Si... Si sta vedendo bene, oppure fa comunque schifo. La borla. La borla, la borla, la borla. La borla. Ok, no, niente. Niente doppio. Ok. Andiamo. Uh, Bennett. Non male. Ah, buono, un off banner. 4 stelle? Si. Mi sembrava troppo luminoso. Pure a me, sinceramente. E non si capiva bene dal... Dallo stream. Dalla ottima qualità, dici? Eh. Lasciamo stare. Allora. Vabbè, l'importante è che quando esce Zhongli non laghi. Ma prima con Gregolo ha laggato. Ha laggato con Gregolo. Eh, ma infatti... No, nel senso che si veda bene. Che poi laghi il gioco, non fa niente. Oh, vabbè, insomma, mi hanno scammato niente 4. Niente 4 stelle. Eccola, Xinyan! Oh, dai. Ci sta? Assolutamente. Sta procedendo bene. C'è della streaming questo lag, mi dicono. La borla umana. Attenzione. Favamo più lento. Favamo più lento. Ok, sì. È un po' in ritardo lo stream, non si sa bene il motivo. Ok. E allora era quello lì il problema. No, sì. Va abbastanza ai lag, purtroppo. Però, ragazzi, ci sono i pull. La Dragon's Bane! Che anche questa è in rate up nel coso delle armi. Travis prendi appunto. Ok, io... Io trovo le armi nel PG Bane. Ok. Va talmente a scatti che... Le armi in rate nelle armi dentro al PG Bane. Ma non è che sto scattando sulle armi, ragazzi. Non è che. The Realty dice... Va talmente a scatti che se trovi Zong, sembra che ne hai trovati tre in un pull singolo. Ancora 4 stelle. 4, sì. Ma magari me ne danno due. Chi lo so. Potrebbe essere. Zongyun, al terzo. Ci può stare. Sì. Vediamo se uscirà anche un secondo 4 stelle. Veniamo. Zongyun l'hanno messo con un rate up, credo, dell'80%. C'è solo lui. Vabbè. Non si sa. Tranne a me. A me uscirà Boojin, sicuro. 100%. Chek. Chek. Niente. Niente. Libricino. Ma non c'era pure Razor, vero? Razor non l'abbiamo ancora visto oggi. Per niente. In 50 pull circa, neanche un Razor. 52. Ecco il Razor. Razor? Vediamo un attimo. No. No. E invece la nuova costellazione è 1. Ma scusami. A me non piace tanto il giallo. Quindi dovrebbe uscire proprio per darmi dispetto. Boh. Quindi niente. Pure io oggi ho trovato un'arma in rate up nell'altro. Una Shingyan e poi la C1 di Shonin mi sono fermato. 24 pull. Burka. Quanto stiamo? 58 circa? Più o meno sì. Vabbè, tanto poi... Si usciranno eventi, cose... Al massimo fra qualche altro giorno si riprende. Koto stasera fa Diona C6. Ma non penso che possa uscire Diona già adesso. O sì? Non credo. Ma mi vogliono far arrivare al Piti del... Del 4 Stelle. Lul. Comunque sono finite le prime gem. Ne ho solo 300 da parte. Ok. 4 Stelle intanto. Ciao Nune. Il nostro Roxas. Beh ragazzi... Eh raga, due pull. Due pull precise, precise. Puliti, puliti. Arrivo a zero come il portafoglio. Oh, shit. Hola Koto. Hola Zeshire. Fizz bad, man. Ma no, Kali, in realtà sei abbastanza in tempo, sai. Vai tranquillo. Mi fa laggare tutto il mondo per trovare Zhongli. E invece... E niente, laga, così tanto che non lo sappiamo noi ancora. Quindi, ok. Vedi? Ma che bello Zhongli. Vabbè, me lo ricordavo diverso, però basta che sia lui.